C'è una nuova musica da Acqua e Sapone! Collegatevi subito al nuovo canale Spotify di Acqua e Sapone con le playlist a tema. Cambia la musica, ma le offerte strepitose di Acqua e Sapone non cambiano mai. Andiamo! I prodotti Borotalco sono in promozione. I deodoranti Borotalco nelle varianti Spray, Vapo e Roll-On sono a 2,25€ ciascuno. Il doccia schioma e i nuovi bagno doccia nella variante Original sono a 1,99€ ciascuno. E solo da Acqua e Sapone con 5€ di prodotti Borotalco, di cui almeno un Deo, ricevi il Mini Deo Spray Intensive. I SalvaSleep Carefree nelle varianti Cotton da 44 pezzi e Plus Large da 36 pezzi sono a 1,79€ ciascuno. E solo da Acqua e Sapone con ogni prodotto Carefree. Il regalo è una confezione di salviette intime al tè verde ed aloe vera. Carefree, il tuo piccolo segreto per sentirti fresca più a lungo. Sentito che offerte? Musica per le mie orecchie! Da Acqua e Sapone trovi cortesia, qualità e risparmio. Tutte le note giuste per uno shopping da numero 1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Un salve ultimo programma Grazie a tutti. Grazie a tutti.